È giunto il momento del fatidico restyling di metà carriera per BMW X5, il SUV di media dimensioni affina il proprio look ed eleva la tecnologia dell'abitacolo, oltre a proporre un boost di potenza nella variante ibrida plug-in. Lo stile robusto della carrozzeria affina i propri artigli, dando continuità al processo stilistico iniziato con X1. Il frontale è caratterizzato da una nuova interpretazione della firma luminosa e del famoso doppio rene. Nell'abitacolo domina il già conosciuto pannello curvo del display, una soluzione unica che raccoglie tutte le funzioni digitali della nuova X5. A beneficiare dell'arrivo del curved display, oltre all'apporto tecnologico, è la pulizia di plancia e tunnel centrale, entrambi quasi totalmente liberati dai tasti fisici, dando così risalto alla qualità di rivestimenti e giochi cromatici, che rendono giustizia al segmento premium a cui appartiene. Andando a scomodare l'infinita lista di optional, troviamo anche il sistema di realtà aumentata legato all'head-up display, oltre a varie personalizzazioni del pacchetto comfort. Il cuore del nuovo progetto sostenibile BMW X5 è la nuova variante X-Drive 50e, un'evoluzione della variante plug-in hybrid pre-restyling, che porta in dote una dose di potenza davvero sportiva. Oltre alla potenza, beneficiare dell'aumento di numeri è anche la capacità della batteria, che arriva quasi a 26 kW ed assicura fino a 100 km di autonomia a zero emissioni, rendendola una vera e propria elettrica da tutti i giorni, vivendo però la libertà del termico quando si affrontano i lunghi viaggi. Sotto quest'ultimo aspetto ritroviamo un aggiornamento dei sistemi di sicurezza, ora più affinati e meno invasivi. Con un listino ancora non dichiarato ed una lista di optional in grado di far lievitare facilmente il prezzo finale, come da abitudine ritroveremo nuove X5 all'interno dell'offerta premium, riconfermando il costo della qualità.